ciao a tutti ragazzi qui in questo nuovo video il nostro solito mazzo di carte ovviamente carte tutte diverse vado anche andare una mescolata e vado come sempre a prendere una carta casuale se te lo ammazzo ad esempio a questa non lo so ve la faccio vedere quindi ricordate che era bene io non la guardo ok la li metto così in mezzo e vado a metterla perfetto ora non so se ne siete accorti ma qui sotto la scatolina avevo messo una predizione una predizione che ho fatto prima di cominciare il video e non c'è scritto niente meno che la vostra carta ovvero l'otto di fiori però si mi sa che ho sbagliato giusto infatti la vostra carta non è l'otto di fiori ma basta un attimo che così con l'accendino andiamo a inviare l'otto di fiori mentre vi dico ovvero la vostra carta spero che questo video vi sia piaciuto quindi vi invito a lasciare un mi piace iscrivetevi al canale e condividerlo e commentarlo vi fate quello che volete ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e niente bella ciao